buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo della nicchia del settore del mercato e del cliente ideale saranno sicuramente dei video più video perché verrà molto lungo lo so già quindi probabilmente questo video sarà diviso in due parti in ogni caso te lo dico alla fine in quante parti sarà diviso e ti metto poi i link dei video che usciranno nelle prossime settimane sotto nell'infobox quindi appunto iniziamo con la nicchia di mercato quindi iniziamo subito dalle basi che cos'è il settore di mercato il settore di mercato è quel dato settore nel quale tu operi perché naturalmente il mercato è gigantesco quindi ci sono all'interno del mercato prima di tutto il mercato mondiale quindi ormai non ci sono più confini ci si può lavorare dall'italia con servizi in lingua inglese o con prodotti che spedisce all'estero quindi il mercato è globale qui tu devi capire all'interno di un mercato globale che comprende centinaia migliaia di prodotti servizi in tante lingue diverse che vengono venduti in tutti i paesi del mondo qual è il tuo settore quindi qual è l'argomento insomma c'è il ciò di cui tu ti occupi per noi molto banalmente il settore del matrimonio quindi se probabilmente se stai guardando questo video lo stai guardando perché vuoi entrare o sei già dentro il settore dei matrimoni cos'è invece la nicchia allora la nicchia è una certa parte di quel settore quindi all'interno dei settori del matrimonio del settore matrimonio che è molto molto grosso tu devi individuare una tua specifica nicchia che è composta da molte meno persone rispetto a tutti i clienti cioè tutti gli sposi tutti coloro che si devono sposare in quel dato anno quindi una nicchia è sì tutti coloro che si devono sposare ma a certe condizioni ho cercato di farlo più semplice possibile cosa devi fare con la tua attività allora devi naturalmente individuare il settore in cui ti trovi che sarà il matrimonio individuare cosa fai quindi naturalmente sei una fotografa se no wedding planner sei una web designer oppure una graphic designer sei tante altre cose un catering individui naturalmente quello che tu vuoi fare quindi tu sei un esempio una wedding planner all'interno del settore dei matrimoni quindi ma non è non basta questo non basta assolutamente perché tu non ti puoi assolutamente c'è chi lo fa male ma tu non ti puoi assolutamente porre sul mercato e riferirti quindi cercare di vendere i tuoi prodotti e i tuoi servizi a tutti indistintamente perché non puoi potere poi non è una strategia vincente neanche un po non puoi perché devi avere in mente una ben precisa nicchia un cliente ben preciso al quale vendere i tuoi prodotti allora quando parlo di un cliente ben preciso è appunto il fatto che all'interno della nicchia tu devi individuare un tuo cliente ideale in modo da avere bene in mente chi è questa persona dopo parleremo appunto anche nel prossimo video come individuare il cliente ideale e come capire come capire come pensa in modo da vendere i servizi e prodotti che fanno più al caso suo e quindi intercettarlo subito ma in pratica il cliente ideale e quel cliente che corrisponde esattamente a ciò che tu proponi e ai tuoi valori ai tuoi ideali quindi si instaura un certo rapporto con quel cliente che è sicuramente migliore e che ti farà vendere in modo migliore e più proficuo ti farà lavorare meglio perché quel cliente quello fatto giusto per te e il cliente perfetto per te ti dicevo puoi benissimo vendere e non avere una nicchia ma non è una strategia vincente perché proporti così allo sbando sul mercato del settore dei matrimoni e tra l'altro uno settore dove spesso si gareggia sul prezzo come in molti settori però il settore di matrimonio un settore dove spesso si gareggia sul prezzo quindi ci sono tanti che fanno la stessa identica cosa non hanno assolutamente nessun valore nessuno però non è esplicitato e quindi vendono a tutti indistintamente è l'unica soluzione per cercare di vendere a persone che non sono innamorate di te quindi non gli ne frega obiettivamente niente che sia tu la fotografa del loro matrimonio o che sia un altro l'unica soluzione per vendere e competere sul prezzo che non è mai una scelta vincente ma proprio mai come vedi io non ho una un'idea molto idilliac del settore dei matrimoni nel settore del matrimonio c'è tanto tanta competitività e soprattutto secondo me non se ne voglia chi chi la pensa così secondo me c'è tantissima incompetenza faccio questi video anche perché tu possa raggiungere livelli più alti rispetto a quelli che di solito si vedono nel settore dei matrimoni poi ci sono molte eccezioni e chiariamo perché io per esempio lavoro in una nicchia con persone che a me piacciono tantissimo che hanno fatto della loro attività nella loro attività esattamente quello che ti sto dicendo quindi hanno dei valori sono esplicitati hanno una nicchia precisa ed è quelli con cui io apprezzo di più lavorare comunque ritornando al discorso la nicchia e quindi è il cliente ideale sono quelle persone che sono perfette per te e che non appena ti vedono si innamorano di te quindi si rispecchiano nei tuoi ideali nei tuoi valori in quello che scrivi in quello che posti in tutto nella tua comunicazione e quindi sono innamorate di te quindi vorranno prendere assolutamente te molti all'inizio pensano che ridurre il numero di clienti potenziali perché naturalmente un settore è molto grande ci sono per esempio facciamo un esempio ci sono 100 persone all'interno del settore matrimoni di clienti possibili che si devono sposare nell'anno 2021 ci sono 100 coppie in tutto il settore naturalmente una persona è più portata dire va bene allora propongo i miei servizi a tutte e 100 le coppie ma dicendo appunto sperando che molte di più possono prendere e comprare i loro i suoi servizi questo perché naturalmente avendo 100 coppie si pensa leggendo metropolitana si pensa che su 100 coppie molte di più acquisteranno il tuo servizio ma devi fare i calcoli e devi contare che oltre a te a proporre quel servizio a quelle 100 coppie ci sono altri 60 altri 60 fotografi per esempio tu sei una fotografa ci sono altri 60 fotografi siete in 60 a proporre lo stesso identico servizio a quelle coppie capisci bene che quelle coppie saranno prima di tutto molto confuse quindi una delle cose più importanti è dargli della chiarezza fargli capire esattamente perché dovrebbero scegliere noi di nuovo il discorso dei perché te lo diretti negli scorsi video perché devono scegliere noi perché noi siamo perfetti per loro meglio di degli altri competitori e altri competitors no quindi non è vero che vendere cercare di vendere a 100 persone quindi a tutto il settore è una strategia vincente perché è molto più vincente cercare di vendere a cinque persone ma che sappiamo essere le perfette per noi sappiamo che appena noi gli spieghiamo tutto quello che facciamo abbiamo una buona comunicazione loro vedono il nostro sito vedono le nostre foto appena loro sapranno che esistiamo loro prenderanno noi noi avremo cinque coppie gli altri li lasceremo a spartirsi le 95 coppie restanti competendo sul prezzo mentre noi non competiamo sul prezzo questo è un deve essere una cosa molto chiara se tu scegli una nicchia potrai con il tempo naturalmente non subito la gavetta è per tutti anche all'inizio anche se non la nicchia ma con il tempo potrai non competere sul prezzo già dall'inizio cercherai di non competere sul prezzo perché se ti rivolgi a una nicchia molto ben precisa avrai un prezzo più alto rispetto a quelli che non si rivolgono a nessuna nicchia e che devono gareggiare sul prezzo per prendere i clienti spero di essere stata più chiara possibile su questo argomento quindi assolutamente è molto meglio avere una nicchia una nicchia piccola anche naturalmente bisogna capire bene che nicchia è capire se dopo ti spiegherò è presidiata già non lo è ci sono varie cose da capire ma avere una nicchia è certamente sempre assolutamente sempre meglio che non non averle e rivolgersi a tutto il settore se hai domande su questo argomento che capisco essere un po' complicato scrivime pure nei commenti ti rispondo molto volentieri ti faccio ancora un esempio a cui tengo molto che faccio spesso e per cui spesso vengo anche criticata ma che secondo me invece è assolutamente rappresentativo della società odierna nella quale noi naturalmente operiamo quindi secondo me è assolutamente importante e ti parlo dell'esempio dell'università allora quando dovevo iniziare l'università quindi ero all'ultimo anno di liceo dovevo scegliere che università avrei fatto avevo molte voci contrastanti intorno io volevo fare archeologia ero completamente sono completamente innamorata dell'archeologia della storia volevo fare tante cose tante cose che appunto riguardavano materie umanistiche dall'altra parte però c'era la voce c'è ancora che con archeologia non ti sfami non riesci a trovare un lavoro è impossibile trovare lavoro in quel settore non vale la pena fare archeologia fai una materia scientifica quindi le idee erano politecnico economia alla fine detti ascolto tutte queste voci alla voce della ragione e io scelsi economia quindi ho fatto economia business administration lasciando perdere se mi è piaciuto se mi è servito in ogni caso non ho fatto quello che volevo quindi io credo invece che non sia così che non sia vero che facendo una certa università per esempio filosofia archeologia che sono università che generalmente quando un ragazzo dice voglio fare filosofia gli dicono ma vai fai un'università seria che poi lavori e non filosofia ecco io non credo invece che sia così nel senso che se tu fai il filosofia ma la fai con i piedi allora certamente dopo non lavori perché hai fatto un'università con i piedi ma se tu fai filosofia la fai con coscienziosità prendi dei bei voti ti informi maggiormente oltre agli studi cerchi di avere dei contatti con i professori che ti piacciono di più quindi presentarti di spiegare cosa ti piace di fare cose in più se fai delle cose extra quindi magari fai filosofia inizia a scrivere per un giornale che parla di filosofia uno due tre articoli all'inizio non te li prenderanno pian piano migliorerai forse di prenderanno o inizi cose tue personali progetti personali ci sono tantissime persone che l'hanno fatto fare filosofia o quello che è insomma l'università umanistica che di solito non dà lavoro farla così ti darà un lavoro perché dopo avrai costruito delle basi solide su cui le persone potranno decidere di prenderti perché gli sei piaciuto perché è piaciuto il tuo progetto esterno perché qualsiasi cosa ma comunque hai fatto un'università bene ti sei impegnato nel farla quindi il punto è che non è mai colpa degli altri è sempre colpa nostra se poi ci sono casi estremi ma in generale sempre la colpa maggiore è sempre nostra siamo noi che non ci impegniamo abbastanza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati non sono gli altri non è il destino non è la sfiga non c'è mai cioè poi puoi avere la sfiga ma se anche tu fossi sfortunato comunque la tua tenacia e il continuare ad andare avanti a costruire quello che tu vuoi costruire ti porterebbe comunque i tuoi risultati è sempre questo che è importante capire perché non è mai vero che anche impegnandoti non raggiungerei gli obiettivi è sempre vero il contrario quindi è importante iniziare a prendersi le proprie responsabilità sono io che ho fatto un esame male e ho preso dei brutti voti e quindi sono uscito mai dall'università e quindi non ho trovato lavoro in quello in cui volevo trovarlo sono io che non ho fatto una comunicazione abbastanza buona da aggrappare i clienti che erano giusti per me da farli innamorare di me da portarli da me al posto di portare da qualcun altro e la colpa è sempre mia devo essere io mettere in atto dei progetti, una strategia per cui quelle persone si innamorino di me non è mai colpa degli altri e prendendosi le proprie responsabilità si impara anche dai propri errori perché naturalmente capita nel senso capita a tutti che non si azzecchia il primo colpo la comunicazione è giusta, il social media è giusto, qualsiasi cosa capita a tutti ma piano piano si impara dei propri errori, prendendosi le proprie responsabilità se invece è sempre colpa degli altri naturalmente non servirà a niente essere caduti perché anche rialzandosi si faranno gli stessi errori in continuazione non si sarà imparato niente e quindi non raggiungeremo mai i nostri obiettivi perché ti faccio questo discorso? perché credo che sia fondamentale perché in Italia io vedo tantissimi lamentarsi, nel settore matrimoni vedo pletore di gente lamentarsi perché non hanno i clienti che vogliono, non hanno i numeri che vogliono, non hanno quello che desiderano quindi non raggiungono gli obiettivi che vorrebbero raggiungere ma la colpa, io appunto sento dare la colpa è ma il cliente, è ma il settore, è ma il momento, è ma c'è la crisi no, no mai, tutto questo sì è vero, ma tu devi trovare il modo per superarlo c'è sempre un modo, anche perché altrimenti non si spiegherebbero tutte le persone che nel settore matrimonio invece vanno molto bene nel settore matrimonio come in qualsiasi altro quindi chiudo la parentesi, ti chiedo scusa per aver fatto questo monologo ma credo che sia veramente importante lavorare su se stessi e credo che sia assolutamente la cosa fondamentale infatti guarda prima di guardare tutti gli altri video, guarda il video sul mindset ti prego è veramente importantissimo quindi abbiamo definito il nostro settore, matrimoni siamo fotografi di matrimoni abbiamo definito la nostra nicchia dobbiamo quindi definire la nostra nicchia, ti dirò poi come fare definiremo poi il cliente ideale quindi proprio una persona fisica fisica inventata oppure no, adesso vedremo a cui rivolgerci a cui pensare sempre quando noi comunichiamo qualcosa a lui può piacere a questa persona, il mio cliente ideale oppure non gli piace se non gli piace cambierò il modo in cui trasmetto certe cose comunque di questo parleremo dopo ancora una cosa sul perché è importante la nicchia allora è importante avere una nicchia perché avendo una nicchia e operando in quella ti fai conoscere più velocemente quindi non è come essere in un mare di squali ma è come essere in una piscina è più facile che le persone ti vedano perché tutte le persone che cercano una certa cosa per esempio matrimonio nella natura mi trovano perché quella è la mia nicchia ci sono quasi solo io e quindi è semplice che mi trovino quindi adesso proprio per il quasi solo io parliamo un attimo di quanto può essere presidiata una nicchia allora la nicchia è naturalmente legata ai bisogni delle persone logico ci possono quindi essere tre tipi di bisogni tre tipi di nicchie i bisogni possono essere già esplicitati quindi vuol dire che le persone in generale hanno un bisogno hanno capito di avere questo bisogno e hanno chiesto al mercato per favore risolvimi questo bisogno quindi ci sono già persone che operano in quella nicchia risolvono quel bisogno e quindi dopo parleremo di come operare in questo caso ci sono poi un secondo tipo di bisogni ovvero dei bisogni inconsci quindi le persone ancora non hanno esplicitato quel bisogno non sanno ancora diciamo di avere quel bisogno e quindi gli operatori che operano in quella nicchia dovranno creare l'ambiente spiegare alle persone di avere quel bisogno e quindi crearsi la propria nicchia c'è poi il terzo ed ultimo caso il caso in cui il bisogno non esista quindi non esiste neanche la nicchia allora ci sono naturalmente modi diversi in cui operare a seconda di questi tre casi partiamo dal più difficile ovvero il caso in cui il bisogno non esista quindi le persone non hanno quel bisogno e quindi non esiste neanche una nicchia allora in questo caso se tu pensi naturalmente questo è il caso di solito il caso di prodotti o servizi che qui ancora non sono arrivati sono ancora molto lontani magari sono all'inizio anche per esempio in America che di solito è vent'anni più avanti di noi quindi in questo caso non esistendo ancora il bisogno ma tu magari hai intravisto quest'opportunità in futuro dovrà essere tua cura far capire alle persone che in realtà quel bisogno nasce in loro quindi dovrai usare tantissima comunicazione fare tantissimo lavoro di comunicazione per far capire alle persone che hanno quel bisogno in realtà anche se ancora non lo sapevano proprio non ne avevano idea da una parte è difficile perché naturalmente devi capire il servizio prodotto giusto la nicchia giusta quindi è una cosa che non essendoci ancora un bisogno devi veramente capire molto bene quello che stai facendo e devi fare un lavorone di comunicazione ma proprio un lavorone perché devi educare si dice il cliente a capire che ha quel bisogno e quindi a utilizzare i tuoi prodotti i tuoi servizi per risolverlo è molto difficile ma dall'altra parte è anche una bella opportunità perché se trovi la nicchia giusta il prodotto o servizio giusto quindi il bisogno giusto è logico che tu sarai il primo il primo ovunque in Italia per esempio è una grande 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 cosa se riesci a educare le persone a far capire quanto è importante ciò che vendi ciò che proponi è importantissimo ed è potenzialmente molto remunerativo ma naturalmente è anche molto difficile il secondo caso è il caso in cui il bisogno più o meno si inizia a intravedere ma non ci sono ancora operatori sul mercato quindi si inizia a intravedere un bisogno le persone iniziano magari non ce l'hanno ancora molto ben chiaro ma iniziano a parlare a chiedere a farsi delle domande avrei bisogno che qualcuno mi risolvesse questo questo problema per esempio ma non c'è nessuno che risolva il loro problema questo è la gallinata le uova d'oro perché se tu trovi una nicchia del genere con delle persone che hanno questo bisogno che ancora non è risolto da nessuno fantastico perché tu puoi entrare sul mercato dovrai fare un po' di lavoro di comunicazione certo ma le persone si fionderanno come piragna su di te perché naturalmente tu sei l'unico a risolvere i problemi i loro problemi molto raro è uno dei casi più rari però può esistere insomma devi cercare molto bene terzo caso è quello in cui i bisogni già ci sono le persone ce li hanno da tanto da poco ma comunque il bisogno è esplicitato molto bene e ci sono persone che hanno già preso la palla al balzo e hanno già proposto delle risoluzioni a questo problema quindi una nicchia che è già presidiata in pratica è complicato in questo caso perché da una parte è molto più semplice perché tu hai tanti riferimenti puoi leggere tanti servizi tanti siti vedere tanti altri stimoli di come gli altri hanno fatto una certa cosa cosa che io consiglio poco perché secondo me naturalmente quello che ti ho spiegato negli altri video ciò che fa la differenza sei tu non è il prodotto o il servizio ma è la tua ciò che tu porti all'interno della tua attività e all'interno di come risolvi questo problema però è sicuramente più semplice perché ormai già il bisogno è molto bene esplicitato tu sai esattamente di cosa hanno bisogno i tuoi clienti i tuoi potenziali clienti il problema però naturalmente è che ci sono già tanti operatori sul mercato quindi per esempio digital marketing il bisogno all'inizio era poco esplicitato le persone che sono entrate per prima in quella nicchia hanno fatto il boom adesso il bisogno è assolutamente esplicitato ci sono tantissimi operatori all'interno di quella nicchia è complicato non dico entrare perché entrare non è complicato ma è complicato emergere quindi ognuno di questi tre casi ha i suoi pro e i suoi contro naturalmente come tutto devi capire quale è più adatto a te e naturalmente devi capire dove tu ti vuoi posizionare i bisogni dei tuoi clienti sono già esplicitati poco oppure proprio per niente e naturalmente risolverli in base a qual è la soluzione migliore benissimo io mi fermo perché veramente ho detto troppa roba tantissima roba farò appunto uscire un altro video dove ti parlerò naturalmente di tutto ciò che viene dopo intanto però ciò di cui ti ho parlato in questo video è contenuto nel workbook ha una controparte a pagina 6 noi ci vediamo al prossimo video naturalmente se hai qualsiasi domanda visto che l'argomento è abbastanza corposo ed è anche abbastanza complicato sotto nei commenti chiedi pure ti rispondo volentieri e appunto scarica il workbook per poter lavorare su quello di cui abbiamo parlato oggi noi ci vediamo al prossimo video ricordati di iscriverti al canale di youtube e attivare la campanella così non ti perdi nessuno alla prossima